Buongiorno Friuli e buon lunedì venticinque giugno. Noi siamo pronti anche in questo inizio settimana per cominciare assieme a voi questa giornata con la consueta rassegna stampa. Tra poco andremo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, poi i quotidiani locali. Prima però come sempre un una parentesi sulle previsioni del tempo, una parentesi che si apre con un'immagine che ci arriva oggi da Sappada. Ecco, vediamo le montagne Sappadine coperte da qualche nuvola. Sappada in questo momento ci sono nove gradi. Andiamo a dare un'occhiata anche alle altre temperature in regione. A Udine in questo momento il termometro segna quattordici gradi e quattro decimi, quattordici gradi e otto a Gorizia, diciannove gradi sulla costa a Trieste. Tornando in montagna vediamo tredici gradi e quattro a Tolmezzo, undici gradi e tre a Arvisio, cinque gradi e un decimo sul monte Lussari. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo coperto, su pianura e costa saranno possibili piogge sparse e qualche temporale di primo mattino, poi miglioramento con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio in montagna sarà ancora possibile qualche rovescio temporale locale. Sulla costa soffierà a Borino in intensificazione nelle ore serali. le temperature massime di ventitré e venticinque gradi in pianura a ventuno, ventiquattro gradi di massima sulla costa. Dopo il meteo, la viabilità e allora vediamo com'è la situazione in tempo reale sulla A4. Ecco la pagina infotraffico di Autovie Venete. Al momento fortunatamente vediamo una situazione tranquilla sulle principali arterie autostradali della nostra regione. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa. C'è il vertice europeo sui migranti in primo piano oggi su tutti i quotidiani nazionali. Allora il Corriere della Sera, cominciamo da qui la nostra rassegna stampa. Il titolo di apertura dice migranti, accordo in salita. Bruxelles discute il piano apertura di Merkel, Macron più freddo. Conte ha detto chi sbarca da noi sbarca in Europa. E poi le parole dell'Eliseo, c'è chi gioca con la paura. Il vertice a 4 di Bruxelles sui migranti, il vertice tra Italia, Germania, Spagna e Francia si chiude senza un'intesa. Si è registrata un'apertura da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, ha puntato il dito contro chi gioca con la paura. Il premier Giuseppe Conte ha presentato il piano italiano e ricordato che chi sbarca nel nostro paese sbarca in Europa. Ieri altri mille migranti nel Mediterraneo soccorsi dalle navi libiche. E poi a centropagina la foto che ci porta in Turchia con i risultati delle elezioni presidenziali. La Turchia incorona Erdogan ma l'opposizione contesta dati manipolati. La Turchia sceglie ancora Erdogan ma sull'esito del voto pesa la denuncia dello sfidante incedati manipolati. Il sultano annuncia la vittoria con oltre il 52% dei consensi. In questo modo non sarà necessario ricorrere al ballottaggio. E a proposito di elezioni andiamo a vedere anche come è andato il voto ieri in 75 comuni del nostro paese chiamati a rinnovare l'amministrazione. Avanza in centrodestra il PD giù anche in Toscana. Bassa l'affluenza. Affluenza in calo sotto il 50% ma i primi dati dei 75 comuni al ballottaggio sembrano premiare la Lega che avanzerebbe nelle città rosse. Giù il PD al centrodestra potrebbero finire anche Pisa, Massa e Siena. Imola ai 5 stelle e a Imperia. Avanti scaiola. Andiamo su Repubblica adesso e vediamo anche qui in apertura il vertice europeo sui migranti i no dell'Unione Europea a Conte, titola Repubblica, Salvini nel mirino di Bruxelles. Vertice senza intesa. E poi vediamo Macron anche qui. Le parole del presidente francese c'è chi gioca con le paure respinte le proposte non umanitarie. Poi vediamo la fotonotizia che ci arriva dalla Turchia. La Turchia del Sultano non cambia. Erdogan verso il potere assoluto. E poi per le elezioni comunali in Italia. Crollo PD volano Lega e Destra e conquistate Pisa, Siena e Massa. Imola ai 5 stelle per Saragusa votanti sotto il 50%. E poi vediamo l'articolo di Stefano Folli, il punto di Stefano Folli che scrive il buio a sinistra. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano che titola Conte, ultimo appello all'Europa, chi sbarca qui sbarca nell'Unione. Il premier agli altri paesi dice basta accoglienza solo nei porti di arrivo a Bruxelles. Per ora l'italiano riceve elogi e prudenti consensi ma i leader si rivedranno a metà settimana per il summit ufficiale. Macron proposta italiana coerente con l'Unione, no a chi gioca con la paura. Merkel tutti siano responsabili ma la cancelliera deve guardarsi dall'intransigenza interna dei bavaresi e oggi Salvini va in Libia. Vediamo anche qui la Turchia sinchina, Erdogan, sultano assoluto, il presidente si conferma con il 52%. E poi la storia di copertina del lunedì che oggi ci porta a parlare dei bambini, dei capi d'abbigliamento, una moda da schiavisti, così nasce il superlusso, così nascono i capi firmati, scrive il fatto quotidiano. Made in Italy e grandi firme senza qualità. Il sistema funziona grazie alla delocalizzazione per risparmiare a ogni costo il grosso delle produzioni in paesi senza regole e paghe da fame per i lavoratori. Chiudiamo il fatto quotidiano e andiamo adesso sulla prima pagina della stampa e vediamo in apertura migranti l'Unione Europea tenta l'intesa ma è duello Italia-Francia. Salvini blocca le ONG e oggi vola a Tripoli. La Libia recupera 820 disperati alla deriva. Andiamo a vedere anche la fotonotizia che ci porta a parlare dei mondiali in Russia. La foto è quella di Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra. Inghilterra che ieri ha vinto a valanga. Sorpresa Kane è capo cannoniere mondiale. L'attaccante inglese ora sfida Ronaldo. Il bomber dei record lancia l'Inghilterra. Cinque reti in due gare contro Tunisia e Panama. Un esordiente non ci riusciva da 60 anni. Ancora andiamo sulla prima pagina del giornale e qui vediamo il titolo centrodestra, valanga. La Toscana non è più rossa. I ballottaggi cancellano il PD. Vittoria a Siena e Pisa. Boom a Terni e in Sicilia. E poi Renzi è il sondaggio sciocchi. Il suo partito al 4% scrive il giornale. E poi sulla questione migranti. Il giornale scrive l'Italia alza la voce ma l'Unione Europea sui migranti prepara la trappola. Ancora sempre sul giornale. V compra in spiaggia multe a chi compra per contrastare l'illegalità. Andiamo anche sulla prima di Libero e vediamo a proposito del vertice europeo sui migranti. Vertice europeo fallimentare Francia e Spagna contro l'Italia ma chi se ne frega scrive il Libero. Conte propone di blindare i confini e spartirsi i profughi. Tutti però si ostinano a difendere le proprie frontiere. Respinti mille clandestini se li prende la Libia. Chiudiamo anche Libero adesso andiamo sul sole 24 ore e vediamo in apertura all'Italia tutta cash ma attenti ai rischi del pagamento in banconote. L'Unione Europea chiede più operazioni elettroniche che oggi sono 100 all'anno per ogni abitante. Il primo luglio scatta lo stop agli stipendi in contanti. Limiti ed evasione mentre si discute di rivedere la soglia oggi fissata a 3.000 euro c'è il timore che l'eliminazione sia intesa come liberi tutti. Chiudiamo anche il sole 24 ore andiamo a vedere per chiudere questa prima parte di rassegna stampa anche un quotidiano sportivo nazionale andiamo a vedere la prima della gazzetta dello sport e vediamo in apertura ancora il Milan il futuro societario del Milan. Mister Milan vuole tutto. Commisso stringe e punta alla maggioranza del club. Il patron dei Cosmos presenta l'offerta ricchezza alla finestra lì tenta l'asta ma bisogna fare presto. Oggi la stangata UEFA e la svolta è decisiva per il TAS. poi torneremo ovviamente sulla gazzetta dello sport nel corso della seconda parte del nostro Buongiorno Friuli e adesso spostiamoci sui quotidiani locali andiamo a vedere la stampa locale andiamo a vedere Messaggero Veneto piccolo e Gazzettino. Vediamo subito i titoli di apertura del Messaggero Veneto di Udine innanzitutto pensionati in paradiso alle Canarie. Sempre più friulani scelgono le isole spagnole reddito più 30 per cento. E allora andiamo nelle primissime pagine del Messaggero dove troviamo l'articolo che ci fornisce alcuni dati anche sul saldo demografico del Friuli Venezia Giulia e poi delle altre province del della nostra regione nel 2017. Ma cominciamo con l'articolo di apertura che ci riporta la testimonianza di un friulano andato a vivere appunto alle Canarie. Friulani alle Canarie siamo in paradiso. Sempre più corregionali si trasferiscono sulle isole spagnole. Un pensionato guadagna il 30 per cento del reddito rispetto all'Italia. Con 600 euro al mese si può affittare un bilocale in un residence con piscina. La vita costa meno che nel nostro paese. E poi a proposito di numeri, a proposito del bilancio demografico 2017 vediamo in questa tabella che diminuiscono i residenti in Friuli Venezia Giulia. ecco i numeri. Al 31 dicembre 2017 i residenti, gli abitanti in regione erano un milione duecento quindicimila cinquecento trentotto. Due mila trecento trenta quattro in meno rispetto a inizio anno. Il saldo migratorio pari a circa quattromila unità non è riuscito a compensare il saldo naturale, ovvero il la differenza fra nati e morti pari a meno sei mila trecentottantatré. Vediamo in particolare Udine dove la diminuzione degli abitanti è stata di circa duemila unità. Due mila ottantacinque eh unità in provincia di eh Udine. E poi vediamo appunto che per quanto riguarda le le città residenti stabili Udine e Pordenone crolla a Gorizia. In regione la sorpresa positiva è Trieste con mille ottocento abitanti in più. Torniamo adesso in prima pagina e passiamo alla cronaca. Andiamo a vedere la foto notizia a centro pagina che ci riferisce di un episodio eh di cronaca avvenuto nella serata di sabato in un locale del centro a Udine devastano lo champagne bar appena aperto. Banda Rom in eh azione. Ecco la foto notizia e poi tutto l'articolo nella pagina che apre il fascicolo dedicato a Udine e provincia. Rom picchiano due baristi e sfasciano il locale. Arrestati. È successo alla sciabola di via pelliccerie aperta lunedì. Altri tre denunciati. Il titolare aveva chiesto di risarcire i danni causati nel bagno. Il gruppetto in tutta risposta ha colpito lui e un altro dipendente per poi scatenarsi, scatenare la ehm furia anche contro eh le vetrate del del bar come vediamo appunto anche in queste eh immagini. E sempre per quanto riguarda la cronaca cittadina vediamo in Borgostazione arriva al posto fisso di polizia comunale da due giorni come annunciato dal sindaco, il mezzo dei vigili, una presenza costante del territorio dal lunedì al eh sabato. Torniamo sulla prima pagina del ehm messaggero Veneto e andiamo a vedere anche le altre notizie eh di cronaca. di spalla tragedia durante il giro in bici muore a eh 63 anni. La vittima un elettricista di eh Torreano era con un gruppo eh di amici eh a eh Cormons. hanno fatto di tutto per cercare di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Franco Pascolini elettricista di 63 anni è morto a Cormons sul ciglio della strada al ritorno da un giro in bicicletta con gli eh amici. E poi ancora andiamo a leggere anche queste altre due notizie. escursionista ferito finisce in una scarpata. Lo trovano dopo tre ore. Brutta avventura per un escursionista udinese che è scivolato in una scarpata nei pressi di eh Casera eh Canin. L'uomo è stato poi recuperato dai eh vigili del fuoco e dal soccorso alpino. E poi sempre per quanto riguarda la eh cronaca eh nera dipendente Danieli Lutto per Nevio Cossio era istruttore di eh alpinismo. Aveva al suo attivo numerose spedizioni e vediamo l'articolo anche nelle pagine interne. Addio a Nevio Cossio re della eh montagna. Basiliano era malato da alcuni mesi. Ex dipendente eh Daniele aveva 65 anni ed era istruttore di alpinismo. Oggi il funerale. Nel taglio alto della prima pagina del messaggero Veneto si parla del riciclo dei rifiuti dagli scarti riciclati ai fondi del caffè. I rifiuti sono un affare. In Friuli aziende all'avanguardia su eh questo fronte. C'è chi fornisce Ikea e chi fa impianti all'estero. Il futuro è segnato. Vista la progressiva rivoluzione della disponibilità di materie prime vergini. L'economia dovrà passare dal modello lineare a quello circolare. La differenza sostanziale nel primo caso infatti si parla di produzione finita. Nel secondo la produzione è rigenerativa. E poi anche qui nelle pagine interne abbiamo alcuni articoli che ci raccontano questa situazione. Ci raccontano anche alcune realtà della nostra regione impegnate appunto nel riutilizzo eh dei eh di alcuni materiali. Affari dai rifiuti. Il Friuli fa scuola. Ecco il titolo molte esperienze in regione nel settore eh manifatturiero. E poi abbiamo anche alcuni eh casi che ci raccontano come vengono utilizzate queste queste materie tra le quali ad esempio eh la plastica. Ancora sempre sulla prima pagina del messaggero Veneto nel taglio basso spazio alla eh musica si parla dei nomadi eh con un'intervista a Beppe Carletti i cinquantacinque anni dei nomadi nel segno di eh Augusto nelle pagine della cultura degli spettacoli. Abbiamo la lunga intervista. Io un nomade in politica. Beppe Carletti tra musica e passioni sono democratico. Mi piacerebbe eh candidarmi. E dopo il il concerto dei giorni scorsi a Romance anche mogia udinese si prepara alla festa in eh la festa di musica. La banda emiliana sarà venerdì ventisette luglio in eh Carnia. Andiamo sul gazzettino adesso. Il gazzettino del Friuli. Andiamo a vedere subito i titoli eh di eh apertura. Andiamo sulla prima pagina del fascicolo del Friuli e vediamo che eh anche qui si parla di ehm migrazioni all'estero di tanti eh friulani in questo caso dei laureandi. L'esercito dei laureandi in fuga. I risultati shock di una ricerca dell'ateneo friulano. Il quarantaquattro per cento è tentato dalla migrazione all'estero. Gli esiti riguardano un campione di mille cento studenti ma si punta a censirne quasi tremila entro il duemila diciannove. Quasi metà dei laureandi dell'atenea udinese è tentata dalla fuga all'estero e il venti per cento pensa a un'uscita definitiva dal Friuli. Sono i dati di un'indagine condotta sui laureandi dell'Università di Udine. L'analisi presentata finora si basa sui dati relativi a mille centosettantadue studenti ma si punta ad arrivare a censirne tremila eh per l'aprile del prossimo anno. Dai primi risultati il concetto è chiaro. Il quarantaquattro per cento dei laureandi afferma di prendere già in considerazione la possibilità di trasferirsi all'estero per continuare a studiare o per lavorare dopo la laurea. Il cinquantasei per cento di questi ritiene che sia comunque un'esperienza positiva per crescere. Il diciassette per cento ritiene che sia una necessità per il lavoro. A cento pagina a centropagina la foto di eh San Daniele in questi giorni eh al centro di aria di festa numeri da record quest'anno per la grande rassegna dedicata al eh prosciutto. Ecco qua quando c'è ancora tempo sino a mezzanotte per suggellarla come edizione da record aria di festa la manifestazione dedicata al prosciutto dopo di San Daniele già traccia un bilancio più che positivo in termini di presenze. La percentuale è di un venti per cento in più rispetto al duemila eh diciassette. E poi vediamo ancora di spalla la prova delle sette trenta trecentomila friulani. I commercialisti troppe famiglie perdono i rimborsi. Urge una eh riforma. Il piano emergenza per il caldo sotto sorveglianza a mille duecento persone. È scattato il piano regionale con il servizio di informazione. Il monitoraggio di mille duecento persone più deboli o sole e quindi più eh esposte. Anche se in questi giorni le temperature non sono proprio quelle dell'emergenza caldo. Alignano al pronto intervento seicento soccorsi ha debuttato tra i bagni tre con bandiera inglese e quattro con bandiera italiana di Alignano Pinetta al pronto intervento sanitario Sogit Croce di San Giovanni. È un servizio molto apprezzato dai turisti che frequentano il litorale di Lignano. La Sogit compie in una stagione balneare oltre seicento interventi. Dal piccolo taglio di conchiglia alla slogatura di chi magari gioca a eh pallavolo. E poi per quanto riguarda lo sport vediamo ciclismo, gara d'esordio al Bottecchia, vince Bessega la seconda prova del master regionale della pista duemiladiciotto al velodromo eh Bottecchia. E eh ancora andando nel taglio basso vediamo per quanto riguarda l'Udinese settimana di botti sul mercato. Tra poco leggeremo bene tutti gli articoli per quanto riguarda il mondo dei motori. vediamo l'Italian Bahia. Cuba Zygonski bissa il successo all'Italian Bahia. Vediamo anche nel taglio alto della prima pagina del gazzettino. Così andiamo a vedere qualche altro articolo poi approfondito nelle pagine interne. Per quanto riguarda il turismo, festival delle montagne, quattro tappe friulane. Ci sono anche quattro tappe pordenonesi nell'ambito del festival delle Alpi e delle montagne italiane in programma al sette e otto eh luglio. In questi giorni in regione anche eh Mughini, il carisma di Mughini e Rumiz a eh Roveredo e poi vediamo il cinema muto, le opere di Stahl riprendono vita a eh Pordenone. Questa era la prima pagina del gazzettino. Adesso andiamo anche sul piccolo, cominciamo con il piccolo di eh Trieste, vediamo in apertura, incubo Ater, alloggi sfitti e abusivi, Trieste oltre seicento case in condizioni pessime e c'è il nodo degli inquilini fantasma. il eh la pagina, la prima pagina di Trieste cronaca apre proprio con questa notizia, con questa inchiesta del piccolo, occupazioni abusive e alloggi abbandonati, le grane dell'Ater. Oltre seicento gli appartamenti sfitti e in condizioni pessime ma mancano i fondi per ristrutturarli e poi c'è il nodo dei eh subaffitti. In via Boito, sopra via Flavia, tutti i caseggiati degli anni cinquanta hanno monolocali e bilocali, non eh abitati, scrive il piccolo. E vediamo ancora, posta sbiadita sotto la porta, i mobili buttati nei corridoi, viaggio nei rioni con la maggior concentrazione di edifici popolari e abitazioni vuote. L'esasperazione dei più anziani, qui è peggio di Scampia, una volta non era così. Ritorniamo sulla prima pagina del piccolo e andiamo adesso nel nell'isontino con il piccolo di Gorizia e Monfalcone, andiamo a vedere anche qui le notizie principali. Oculista Goriziano muore in Grecia, Malore fatale per Paolo Grusovine in vacanza sull'isola di eh Carpatos. Ecco il titolo di apertura e poi l'articolo nelle pagine interne. L'oculista Grusovine stroncato da eh un malore stava nuotando nelle acque di Carpatos dove era in perie con eh la moglie per aveva settantasei anni per ventisette anni ha eh lavorato al eh civile. Ancora andiamo eh nelle nelle altre pagine interne andiamo sulla prima pagina del fascicolo di Gorizia dove si parla di Corso Italia del cantiere disgraziato così lo definisce il piccolo. Corso Italia, il diktat dei commercianti, Madrid dice per il prosieguo dei lavori vanno coinvolte ditte serie e solvibili. Un tappeto verde antipolvere sopra la eh ghiaia. E adesso cosa succederà? Come e soprattutto quando andranno avanti i lavori di rifacimento dei tratti successivi di Corso Italia sino al parco della rimembranza? Sono domande ricorrenti a porsele i goriziani e soprattutto i commercianti e gli esercenti che hanno la sventura di avere la propria attività nel tratto disgraziato quello che va dalla farmacia all'orso bianco al negozio di abbigliamento la botteguccia. Oggi in quella zona la situazione è notevolmente migliorata. Sono state tolte le ingombranti e impattanti reti arancione da cantiere. Non ci sono più i tombini sporgenti. La strada è percorribile in sicurezza anche dai portatori di handicap. ma è una soluzione tampone per forza di cose temporanea con quel selciato realizzato con sottovaglio e ghiaino che sono portatori di una quantità industriale di polvere senza contare l'effetto che su quella pavimentazione può avere un acquazzone anche non particolarmente abbondante. Una situazione di precarietà forzata. andiamo anche sulle pagine di Monfalcone così andiamo a vedere anche i titoli in primo piano nelle basso isontino. Firma apposta su due liste la calligrafia è differente. Fra gli 82 doppi firmatari di cui il legale Cristanci ci fornisce copia al giudice c'è chi si oppone al decreto penale di condanna. Testimone la responsabile dell'anagrafe. L'elenco è stato acquisito. Sono i nomi e i cognomi di quasi un centinaio di elettori monfalconesi che avrebbero a posto una doppia firma su liste distinte nell'ambito delle sottoscrizioni dei candidati per le amministrative del 2016 che hanno sancito l'elezione a sindaco di Anna Maria Cisinte. Nominativi esattamente 82 trasmessi all'epoca del riscontro alla procura di Gorizia era il 29 settembre di quell'anno e ora nel fascicolo del giudice monocratico. E poi l'articolo che prosegue e ci racconta appunto le vicende giudiziarie di questa vicenda. Chiudiamo anche il piccolo di Monfalcone e chiudiamo anche questa prima parte di Rassegna Stampa perché adesso dobbiamo fermarci, è il momento della pubblicità. Noi ci ritroviamo come sempre subito dopo per la nostra Rassegna Stampa sportiva. A tra poco. Grazie.